Allora, 20-25 minuti insomma parliamo di cose non tecniche perché chiaramente qua parliamo del fattore H. Parlo a nome di Isaka, dopo vi faccio un flash sull'associazione. Per Isaka ho fatto un paio di pubblicazioni nel 2013 sulle regole di ingaggio per un penetration test e l'anno dopo sulla violazione dei sistemi industriali. L'argomento, cioè il talk di oggi, presenta l'ultima ricerca che appunto avrà il patrocinio anche di Isaka oltre ad alcune associazioni anche se è un work in progress appunto sul problema dell'awareness. Bene, Isaka è un'associazione no profit che raggruppa persone che si occupano di T-governance e di cyber security però più a livello organizzativo, a livello di business. propone dei corsi e sono chiaramente tutte cose vendor neutral, dopo magari facciamo anche lì un flash vi dico, però fondamentalmente fa divulgazione, quindi là per esempio la foto quella lì in basso che vedete abbiamo sponsorizzato il cyber challenge che se ne è parlato un po' ultimamente dopo Maccheroni, quindi il contest a livello italiano, quindi la costituzione di una squadra che fa attività di ethical hacking e la prova di andare a sfidare il resto del mondo a livello di competenze. Isaka ha tre capitoli, c'è Milano, Roma e Venezia. Venezia è il capitolo più recente, siamo circa 250 soci, facciamo appunto divulgazione, quindi qualche evento, i prossimi eventi ne facciamo uno sulla 27001 a Villa Manin, dove portiamo anche un paio di testimonial che hanno intrapreso il percorso di certificazione e magari qualcuno conosce l'evento che è ormai la sesta edizione sulla sicurezza applicativa che mi sembra la facciamo a ottobre a Cafoscari, quindi è una giornata proprio, c'è parla OWASP, quindi diciamo ci sono anche testimonial internazionali. Quindi sostanzialmente facciamo divulgazione nei temi di cyber security. Bene, perché nasce lo spunto insomma per quanto riguarda la parte dell'awareness? Perché la problematica dell'errore umano è un aspetto assolutamente importante, quindi qui ho preso un articolo di qualche tempo fa, ci sono voci discordanti, però sostanzialmente addirittura mi sembra che la polizia postale qualche tempo fa aveva fatto una stima che il 90% degli incidenti è dovuto al fattore umano. E sicuramente la persona un po' più competente che ha scritto anche un libro è Kevin Mitnick, quello là è il suo biglietto da visita, vedete, con gli attrezzi da scasso, per cui chi l'ha letto insomma trova delle cose, trova dei contenuti che pur essendo un libro assolutamente vecchio, vecchiotto insomma, è tuttora valido perché comunque parliamo di vulnerabilità a livello psicologico. Però fondamentalmente, recentemente ho dovuto affrontare l'argomento, non c'è della documentazione, c'è qualche cosa, ho trovato per esempio un libricino che ha scritto la franchina, per chi è del settore, magari sa chi è, diciamo sul social engineering, però c'è poco insomma, c'è poca documentazione. E io mi sono fatto un'idea che il problema è legato al fatto che servono competenze psicologiche, cioè nel senso che comunque chi si occupa di sicurezza è sempre un tecnologo, qui bisogna ragionare con uno psicologo. Attualmente insomma di psicologi che ne sanno anche di informatica, sicuramente ce ne sono pochini. Questa è la struttura del white paper, più o meno insomma, vi ho detto ne ho fatto più di qualcuno, quindi è abbastanza rodato, normalmente faccio una survey, cerco se posso di portare anche un business case, quindi un caso reale di una campagna, magari di sensibilizzazione per spiegare come si fa e questo è il gruppo di lavoro, quindi io faccio il coordinatore, poi abbiamo anche dentro una sociologa che era un ex responsabile dei sistemi informativi e comunque persone, tutte persone operative in azienda, perché secondo me la componente qua che fa veramente la differenza è l'esperienza, solo l'utente che gestisce, diciamo i propri utenti, quindi che è nei sistemi informativi che gestisce gli utenti sa quali sono magari gli errori più comuni. Allora, mi sono figurato questo, il titolo nasce un po' anche da questa idea, insomma che comunque il cervello può essere assimilato a un firewall, no? E quindi ipotizzate che arriva un firewall che vi arriva che lo avete appena comprato, dovete fare la configurazione, quindi definire delle regole, diciamo gli accessi, piuttosto che fare l'hardening e poi lo mettete in produzione, e quindi ho cercato questo concetto su Google, è venuto fuori questa bellissima scatola di montaggio su Amazon che è, diciamo, a fine chiaramente scolastico, da assemblare il cervello, quindi l'ottica è che voi ricevete questa cosa qua, dovete assemblarla mettendogli un minimo di hardening, quindi lo sforzo qua qual è? Sicuramente non parliamo di tecnologia, ma parliamo di alcune basi psicologiche, diciamo, del funzionamento della mente. Quindi, diciamo, il cervello comunque è un qualche... Io non sono un medico, quindi sicuramente potrò dire delle cazzate e diciamo non vado a trattare l'argomento approfonditamente, però chi lo ha fatto, chi lo fa per mestiere, diciamo, ha definito bene delle regole, e quindi ci sono delle vulnerabilità reali, un po' come, diciamo, ci possono essere delle vulnerabilità su un sistema, anche il cervello ne ha alcune, quindi la paura, il concetto, il premio, la curiosità, sono aspetti, diciamo, che sono le vulnerabilità di questa cosa che fa in parte del mio impianto di sicurezza. Queste cose qua, chiaramente, sono assolutamente ben note, per esempio, a chi vende, chi vende, non so se avete mai sentito parlare del PNL, quindi il PNL sono strategie, diciamo, di interazione fra l'utente, anche nel linguaggio, nel modo di atteggiarsi per la vendita. Quindi chi fa vendita sa benissimo queste vulnerabilità. Qual è il concetto? Che se va nel campo della sicurezza, l'impatto magari può essere diverso. Quindi comunque, ecco, il cervello fa parte delle persone che sono i miei utenti, fa parte del sistema di sicurezza, e quindi la mitica, diciamo, che magari avete visto la vignetta di Dave, quindi il discorso è che io faccio patching, faccio hardening, mi compro tools, eccetera, eccetera, e poi dall'altra parte ho degli utenti Dave che mi creano continuamente delle falle. E quindi questa cosa qua la devo prendere in considerazione e farci qualche ragionamento. Allora, survey, work in progress, quindi questo qua non è, il lavoro non è finito, la pubblicazione non è ancora finita, il survey è partito, diciamo, insomma, due o tre mesi, insomma, stiamo lavorando. Adesso abbiamo circa 35 risposte e queste sono le domande. Vedete che comunque l'argomento è legato appunto al fattore umano. Sono tipicamente aziende e, diciamo, società che lavorano nei servizi, pubblica amministrazione un po' meno. Il taglio delle aziende è abbastanza grande e questo in qualche modo soprattutto sulla domanda legata a quella lì, diciamo, con la fettina arancio, se riuscite a vedere poi le risposte, quindi è legato un po' alla tipologia del campione. Dopo ci fermiamo su questa cosa qua. Quindi la prima, una delle domande di cui questo qua è il risultato è che ci sono degli incidenti informatici dovuti all'errore umano. Quindi vedete che rispetto alla schermata iniziale siamo lì, quindi parliamo di un 72%. Però qual è il problema della fettina rossa dei no? Che, cioè, mentre su altre cose, cioè, quando questa domanda si fa sui penetration test o sui problemi di sicurezza, se parlo con chi segue la sicurezza, magari lo volutamente dice no, cioè, no per un discorso di disclosure. Qua il problema è che probabilmente quota parte di quei no lì è anche perché non lo sanno, perché l'utente è difficile che ammetta di essere stato, fra virgolette, fregato, no? E quindi qui dentro quel no, che è già un po' ridotto rispetto allo standard, secondo me si riduce drammaticamente, perché probabilmente il responsabile della sicurezza logica neanche sa che i suoi utenti hanno fatto delle cazzate. Fra virgolette, magari gli risulta poi il problema, ma non riesce a capire chi è stato lo scatenante. Un'altra domanda è, in caso di incidente informatico, le persone non IT sanno cosa devono fare. E quindi qui vedete che la maggior parte, almeno appunto legato al campione, si riconduce ai sistemi informativi. Se io probabilmente fossi sceso con, se il campione fosse di aziende un po' più piccoline, la fettina, fra virgolette, dei no, che è abbastanza ridotta, probabilmente sarebbe un po' più grande. Qui c'è anche un certo concetto di maturità, quindi la fettina arancio, che dimostra che per le singoli incidenti gli utenti sanno cosa deve fare, vuol dire che in qualche modo qui ho degli utenti, almeno secondo chi risponde, che sono un po' più maturi, quindi invece per ogni cosa, invece di chiamare i sistemi informativi o chi si occupa della sicurezza per la gestione degli incidenti, gli utenti magari sanno, fra virgolette, sfangare i problemi di base. Quindi qui dimostra in qualche modo un certo livello di maturità sul suo problema. Un'altra cosa è, vengono fatte delle misure, delle prove per misurare il livello di sicurezza, quindi le cose più classiche chiaramente sono le vulnerabilità, i penetration test, se vi interessa quello lì è il quaderno appunto che vi dicevo che ho curato, sulle regole di ingaggio, è liberamente scaricabile, fate search quaderni, Isaka Venis, ed è il quaderno numero uno. Non parliamo di questo e non parliamo magari neanche di concetti tipo phishing, perché ormai anche le prove di phishing, diciamo in un ambiente sicuramente aziendale, cominciano ad essere anche abbastanza standardizzati. Qual è il problema? È l'aspetto dell'ingegneria sociale, perché l'ingegneria sociale è il vero test nel fattore H, quindi in questo discorso del firewall umano. E vedete che le risposte sono bassissime, su 35 uno ha detto che le fa. Perché parlare di social engineering? Perché è una componente assolutamente importante, quindi questo testo qua tratto da una slide di Rauchiesa del 2009, quindi parliamo di quasi dieci anni fa, è questa, cioè che comunque i bad guys hanno capito, hanno imparato a usare le strategie, diciamo il social engineering. E questo a tendere sarà sempre più avanzato, perché chiaramente mi ritrovo oggi degli apparati di sicurezza, o comunque la parte tecnologica è autoportante, quindi intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, quindi sarà sempre più sofisticata. Quindi l'importanza appunto del fattore H e della criticità umana a tendere e a tendere crescerà. Se volete vedere un bel filmato, magari lo avete già fatto, quello lì è il titolo, c'è questa immagine, insomma, di questa donna che racconta e che si presenta come ingegnere sociale e spiega dall'altra parte a una persona che si occupa di sicurezza come riesce a convincere la moglie a dargli tutti i dati. E lui dice no, assolutamente, mia moglie è formata e ne sa. E invece, diciamo, sfruttando anche dei concetti, per esempio, di affinità. C'è un momento, insomma, durante il filmato che dall'altra parte la moglie ha un po' una ritrosia, viene fatto partire il rumore di un bambino che piange, questa cosa qua decade, diciamo, il freno inibitorio, quindi la persona dall'altra parte presume che ci sia una mamma che ha dei problemi come mamma e quindi, diciamo, l'affiattamento c'è e quindi cadono in qualche modo poi le remoli. Sicuramente, comunque, il social engineering è una cosa che usiamo tutti noi, cioè nel senso che se anch'io dovessi, devo capire, un qualcuno guardo il suo profilo social, quindi sicuramente è un aspetto importante e crescerà, diciamo, a mio parere, crescerà sempre di più. Questo è un, diciamo, un bell'intervento fatto ad Akinbo, da Mario, qualche anno fa, sulla illustrazione di un penetration test e questo, secondo me, fa un po' capire, no? Quindi qua c'era proprio l'illustrazione di un caso, di un penetration test con l'obiettivo di dimostrare le vulnerabilità e tutta la fase iniziale di gathering praticamente aveva dato riscontro negativo, quindi password strong, quindi il board force non riusciva a dare niente, l'hardening era abbastanza avanzato e quindi alla fine uno è costretto, in questo caso, a ripiegare sul social engineering. Hanno trovato una, quindi era l'illustrazione di un caso reale, hanno trovato la centralinista che aveva passione, quindi l'hanno targetizzata, passione per le app per il suo bambino, quindi, diciamo, app da dare al suo bambino, quindi hanno fatto due parole, gli hanno mandato un'app, quindi compromesso il cellulare, connessione 4G con il Wi-Fi interno, quindi gateway verso, per entrare, con l'ottica di farsi una backdoor, quindi ipotizzate, insomma, questo cellulare incandescente che è, sto, diciamo, devo lavorare per farmi una backdoor più solida, perché se questa mi spegne il cellulare, però tutta la fase poi di escalation è partita da un'attività di social engineering, perché tutto il resto era comunque inefficace. Quindi qual è la caratteristica di un ingegnere sociale? Uno pensa a quello con la felpa, cioè quello lì è una foto, per esempio, di una che poi è stata arrestata e che aveva competenze, diciamo, in qualche modo di hacking, di social engineering, e voleva sfondare nel mondo della moda, poi l'hanno presa, però ecco, questo non è lo stereotipo di chi fa hacking. e quindi quali sono le caratteristiche di un social engineering? Ha abili doti relazionali, è una persona che comunque nasconde, ma alla fine, cioè se vedete un attimino quelle cose lì, ecco, fondamentalmente non ha necessariamente competenze di tipo tecnologico, no? Quindi chi fa attività di etica hacking, santa madonna, deve avere una competenza anche tecnologica. Chi fa social engineering, no? E quindi alla fine, diciamo, semplificando, la visione è che è un venditore che usa le tattiche di neuromarketing a fini criminali. Quindi quello è quello che c'è eventualmente dall'altra parte. Come funziona? Sicuramente si basa anche sul targettizzare la persona, quindi è un po' la differenza fra il phishing e lo spare phishing, cioè lo devo comunque mirare. E quindi, diciamo, l'aspetto di fingersi autorevole, dare supporto, ipotizzare di dare supporto, quindi sfruttare l'ignoranza dall'altra parte, diciamo, di chi è la mia preda, sono aspetti fondamentali. E quindi in qualche modo bisogna un po' fare attenzione a persone che cercano informazioni, ma questo secondo me sta anche nel, diciamo, in quello che per esempio io faccio, cioè sicuramente se uno mi chiede informazioni a casa mia o mi fa le telefonate marketing, gli dico, guarda, no, non mi interessa, eccetera, eccetera. La stessa cosa va riportata anche all'interno dell'azienda. Però ecco, questa roba qua che si chiama cervello è comunque fatta, quindi da chi lo studia, da degli elementi. Quindi ci sono tre cervelli, chiamiamo così tre parti del cervello, quindi la parte più estesa, quindi quella più verso l'esterno, è la parte razionale e, diciamo, la parte dove c'è il cervello intermedio, quindi il cervello razionale pensa e il cervello intermedio ascolta. Ma chi poi decide è la parte più, quella che sta più a basso livello, quindi quando l'uomo di Neandertal, diciamo, ha cominciato la sua, diciamo, la sua crescita in termini di conoscenza, aveva, diciamo, il suo cervello era primitivo. E però qual è la fregatura? Che è quello che decide, no? Quindi io se riesco a compromettere in qualche modo il cervello primitivo, la reazione avviene in modo istintivo e poi magari razionalmente mi rendo conto del problema. A maggior ragione se mi rendo conto faccio anche fatica a divulgarlo, quindi anche quello che si diceva prima, il problema di dire che ho avuto un incidente, diciamo, di tipo sociale è perché poi mi rendo conto che ho fatto una, diciamo, ho fatto una cappella e quindi in qualche modo dimostra una debolezza, no? Però effettivamente mi è capitato anche recentemente a un cliente che dopo ha licenziato la persona, cioè dopo che tu lo hai licenziato, vabbè, dice, ci può anche stare, no? Ma è chiaro che questi qua sono professionisti, quindi è gente che lavora a un livello avanzato. Se tu non hai spiegato niente al tuo utente, non gli hai spiegato che cos'è un attacco di tipo social, no? Cioè, sì, magari quello è l'esito finale, però forse devi dargli un attimo anche di elementi. Quindi nel, diciamo, il cervello primitivo è comunque il, diciamo, il punto critico, la cosa su cui bisogna lavorare. Dieci comandamenti, nel senso che poi, diciamo, per fare una campagna di awareness sostanzialmente questi sono i punti da toccare. Perché? Perché il cervello impari, posso solo lavorare anche qui, diciamo, a livello, diciamo, medico o fisiologico, cioè il concetto è che è la ripetizione o l'emozione. Questi sono gli unici elementi per cui uno impara, no? Quindi quando a scuola andavate a fare l'interrogazione, continuavate a leggere la cosa, si creava la sinapsi e riuscivate a parlare e a rispondere alle domande, a fare il tema. Oppure l'emozione, l'emozione, uno mette la mano sul fuoco, non è che deve ripeterlo, no? Cioè si ricorda per tutta la vita che la mano scotta, che il fuoco chiaramente ti brucia. Quindi bisogna, in qualche modo, far passare, diciamo, in questo che è il farolo umano, bisogna passare da una incompetenza inconscia a degli stati più avanzati. Quindi l'incompetenza inconscia, direi che è qua, molto spesso è lo standard dei miei utenti che ho in giro, quindi non sanno e sono anche inconsapevoli. Quindi già uno stato avanzato è almeno di essere, non sapere, ma essere consapevoli. Cioè questo è già uno stadio avanzato. Lo stadio, diciamo, magari quello, diciamo, più evoluto, è la competenza conscia. Avete finito un corso sulla sicurezza informatica, l'utente prima di fare clic su una mail di Fisci legge con attenzione. Però lo stadio, il migliore, è quello della, diciamo, competenza inconscia, che è quello, per esempio, in questo momento io sto camminando, respirando, cioè ho un task aperto sul camminare, sul respirare, quindi, però non impattano sul fatto che io sto parlando. quindi, diciamo, viaggiano di vita propria. Quindi quello è lo stato, lo stato, il punto d'arrivo. Il cervello primitivo è comunque visivo, quindi se riuscite a far passare, diciamo, concetti visuali, quindi cartone animati, piuttosto che filmati, quello ha un grip maggiore perché, diciamo, il cervello ricorda, proprio perché la parte primitiva ricorda la parte, le immagini, si riesce a fare di più. ed è poi la strategia magari nelle banche che si fa, ultimamente per esempio le banche fanno molto questi cartoni animati, semplificati. Nel business case che sarà poi nel white paper è stato adottato questa strategia. Bisogna dare delle indicazioni sul cosa fare perché anche questa è awareness, quindi se lasci all'utente mano libera, diciamo, lui rischi che si improvvisa, magari hai quello bravo che fa nel modo corretto, però quello non bravo, se non gli dai almeno un regolamento informatico, non riesci a capire, quindi in qualche modo hai scritto quali sono le regole di base, lui deve averle lette e lo ha sottoscritto quando è stato assunto. Quindi in qualche modo un minimo di responsabilizzazione in quello che ha letto, siccome ci ha dovuto mettere la firma, c'è. Bene, ho detto work in progress, però ci sono sicuramente dei primi spunti che vi posso dare, cioè dovete ragionare sul cervello primitivo, questo è l'elemento fondamentale per riuscire a massimizzare il ritorno dell'investimento su questo tipo in qualche modo magari di awareness se lo fate verso i vostri utenti. Il concetto è il fatto di no, diciamo, di fare un'attività continuativa perché appunto se no raggiungete solo lo stato dell'utente conscio, ma voi dovete in qualche modo creare la sinapsi, quindi l'utente deve agire in modo inconscio. E se lì è un problema comunque anche del cervello, vi dico per esempio una cosa legata per esempio alle password, cioè password di otto caratteri siamo tutti consapevoli che sono insufficienti, quindi c'è gente che comincia a portare a dodici caratteri, qual è la fregatura? Che il cervello non ha la possibilità fisiologicamente di memorizzare più di sette otto caratteri, quindi voi portate a dodici, e quindi automaticamente l'utente se la scriverà su un foglietto di carta, quindi è una forzatura rispetto alla fisiologicità del cervello e di questo ne dovete tenere conto. Dovete anche ragionare sul livello di maturità dei miei utenti, quindi quando fate un regolamento informatico a volte mi capita di trovare dei regolamenti informatici molto datati, ma è un qualche cosa che indivenire, cioè probabilmente le vulnerabilità di cui stiamo parlando adesso, fra due anni non esisteranno neanche più, quindi siamo tutti consapevoli che la cyber security evolve molto rapidamente. Bisogna partire sicuramente da chi è più critico, ne parlavo prima, diciamo, che tipicamente il paron è nello stadio, lo stadio zero di partenza, cioè lui è ma chi vuoi che arrivi da me, no, cioè nel senso è inconsapevole e diciamo non sa comunque non sa del problema, però ahimè è il target predefinito da chi attacca che anche lui fa un ragionamento sui costi, vado su quello che fa i movimenti finanziari, quindi responsabile amministrativo, ha delle informazioni commerciali, responsabile commerciali, l'amministratore delegato, cioè sono i target per chi fa social engineering sicuramente quello prediletto. Insegnare e verificare in modi differenti, quindi il concetto delle fake news, quindi sapete che le fake news se voi le ripetete siete in grado di stravolgere la realtà e quindi anche qui il fatto che uno si presenta e chiede magari informazioni spiegare il concetto di fare una verifica in diretta su chi è l'interlocutore, quindi non reagire distinto ma prendersi del tempo per rispondere. Usare contenuti brevi e non tecnici, questo è un aspetto fondamentale proprio perché dicevamo che il cervello è visivo, puntare sulla sfera personale perché comunque secondo me ha più grip, quindi diciamo se spiegate che se uno fa il doppio clic e ti fulmino tutte le foto delle vacanze sul tuo pc invece fa la stessa cosa su un esempio aziendale magari ha più senso insomma farlo nella sfera personale. E formare anche le vostre controparti quindi ahimè il firewall H non ce l'ho solo all'interno dell'azienda ma ce l'ho anche con le controparti e quindi diciamo si rinnesca tutto il discorso. Due parole diciamo su Isaka fa certificazioni neutre nel mondo della sicurezza sono quelle più riconosciute in Italia magari un po' meno ma se vai all'estero e lavori nella cyber security se non hai le certificazioni Isaka difficile magari cioè vale più anche di una laurea in sicurezza informatica insomma è chiaro parlo fuori fuori dall'Italia. Sono anche quelle diciamo sono sicuramente toste però possono quelle che ti danno anche un ritorno questa è una statistica di qualche anno fa sulle certificazioni informatiche quindi non di sicurezza ma certificazioni informatiche la prima è il C-Risk quella sull'autazione del RISC il CISM che è quella che secondo me che per chi fa il CISAMIN è la ottimale quindi però vi dà ecco una visione anche dal punto di vista del business e poi c'è la CISA io sono CISA che a questo punto è un po' più chiamiamo così ancora più ad alto livello. Bene se non avete risposto al questionario fatelo penso che la pubblicazione come sempre sarà poi gratuita spero che venga finita entro la fine dell'anno diciamo ci abbiamo siamo appena comunque comunque partiti se avete qualche domanda e se no io ho finito quindi qua c'è la mia messa e vi interessa diciamo l'argomento se vi piace se siete interessati anche a far parte del gruppo di lavoro nessun problema insomma fatemelo sapere basta che diciamo basta me lo dici cioè l'unica cosa è che come come sempre devi dedicare le sere e i weekend a queste robe qua ma in linea di massima ci dividiamo i capitoli cioè qua bisogna comunque leggere è un po' come fare una tesi cioè alla fine il mio obiettivo è riuscire a dare delle regole in qualche modo semplici gli spunti che vi ho dato è questo il problema è che appunto io mi sono ritrovato in questa situazione normalmente io faccio le pubblicazioni perché? perché quando non lo so io potrei mettermi a farmele io capire però sono da sempre insomma il noto che lo faccia per me lo faccio a fine divulgativo nel senso che condivido poi diciamo l'esperienza e condivido anche diciamo quello che ho imparato magari studiandole sui singoli argomenti quindi si tratta di leggersi la documentazione quella che c'è quindi Mitnick sicuramente io l'ho letto però per esempio adesso sto leggendo un libro sul cervello dove ho capito questi aspetti legati allo Stato il discorso è che appunto così sembra soprattutto lato IT non chiaro per chi è per chi è diciamo psicologo assolutamente questi sono concetti smarcati insomma se eventualmente vi interessa mi iscrivete e poi valutiamo insomma i volontari sono sempre benvenuti bene grazie grazie